Allora, quarti classificati... Alex e William. Dai, io che stai filmante! No, no. Dai, marzo! Ma dai! Poi facciamo... facciamo dopo la... Allora, terzi classificati, Dumba e Kanchi. Dumba e Kanchi, terzi classificati. Dumba! Chiarci. Perché ti ha battuto? Tu? Perché ti dà la... Allora, secondi... Daniele e Alessandro, che da che filmo... No, no, vai, vai. Continua, vai. Ragazza, pom pom, dai. E me ci va? Uuuuh! 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 Dov'è? 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 Uuuuh! Dov'è? Fravi! Facciamo, Franco, una foto di... Grazie.